Il Pinnacolo Il Pinnacolo Il Pinnacolo Se qualcuno utilizzando questo edificio stesse facendo una specie di esperimento Qual è la tua esperienza? Immagini flash coercitive Non era nella mia testa, era proprio qui C'è una parte di lei che non può essere toccata Devi dare ascolto a quella parte Non sei paranoica Di chi ti fidi? La mia teoria è che la tua condizione è che tu apri una frequenza Al di fuori della loro tecnologia Sta succedendo e tu vuoi aiutarti a preparlo Cosa significa? Senza le medicine mantieni tu il controllo Ma se le prendi Ce l'hanno loro Ciao Devi uscirne loro Cosa? Vai Sei consapevole di quello che hai fatto? Ho fatto quello che mi era stato chiesto di fare